come sei stato educato tu come sono stato educato anch'io tutti quanti noi mio papà mia mamma la mia casa la macchina di mio papà la macchina di mia mamma la mia bicicletta mia moglie mia fidanzata sempre mia 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 mio a livello inconscio noi inconsapevolmente abbiamo registrato questa parola mio uguale attaccamento e uno dei problemi più grandi del ventunesimo secolo è proprio questo mio papà mia mamma la mia famiglia la mia casa in realtà tutto questo è giusto ad un piano mentale è veramente giusto è tutto logico congruente e razionale ma sotto l'aspetto cellulare sotto l'aspetto dell'universo sotto l'aspetto di questo universo che crea non c'è niente di nostro non c'è la tua casa non c'è tuo papà tuo papà è l'uomo che attraverso la quale ti ha dato la possibilità di venire a questo mondo questa luce attraverso il suo seme attraverso il suo denaro tua mamma tua mamma è quella grotta quella casa che ti ha ospitato per venire alla luce pertanto che cosa voglio dire che non ci hanno insegnato ed educato attraverso le metafore nonché la simbologia ma ci hanno insegnato ed educato attraverso il razionale attraverso la materia pertanto abbiamo abbandonato una parte di spiritualità e siamo invece in un contesto un po diverso oggi purtroppo siamo attaccati alla casa alla nostra terra alla famiglia a quella donna quell'uomo e quando qualcosa ci viene a mancare soffriamo tantissimo l'attaccamento perché l'attaccamento in realtà in natura non esiste ma noi abbiamo creato un'ipnosi su tutto quanto ciò e pertanto oggi le persone sono attaccate anche a delle cose purtroppo futili anche poco importanti che cosa voglio dirti innanzitutto di portare consapevolezza perché nemmeno le mutande che abbiamo addosso in realtà sono nostre è tutto in prestito e sarebbe incominciare a dircelo perché se noi incominciamo a comprendere tutto quanto ciò che noi facciamo parte di un ciclo di azione e noi facciamo parte di un sistema certo che possiamo amare il materiale certo che possiamo amare certo che possiamo attaccarci ma dobbiamo avere la consapevolezza che non è nostro ma è tutto in prestito pertanto come ci è stato dato ci può essere tolto e cosa possiamo fare amarlo e ringraziarlo ogni giorno che ne abbiamo la possibilità e la consapevolezza c'è un pianeta del sistema solare che è il codice 4 che è il pianeta degli artisti il pianeta anche a livello karmico di leonardo da vinci poi anche di picasso di tantissimi che è urano urano quel pianeta che ti dice ti da e ti prende ti do e ti tolgo allora che cosa voglio dire ad ognuno di voi voglio dire una cosa molto semplice hai una donna da amare bene non è la tua donna ma è la tua compagna che per un determinato momento nella tua vita decide di fare un percorso insieme e pertanto amala ringrazia e ricorda a lei che non è tua ma è sua di lei dagli il potere la stessa cosa lei deve farlo nei confronti tuoi la stessa cosa dobbiamo farlo nei confronti di qualsiasi cosa così facendo non solo diamo potere al prossimo cosa molto bella cosa molto saggia cosa veramente fantastica ma risvegliamo la nostra parte cellulare e diamo la possibilità alla nostra cellula che dialoga con l'universo di dialogare anche con noi perché il nostro universo dice ma cosa fa quello ma cosa fa ma guardalo la mia qua la mia bici la mia casa i miei le mie i miei oggetti le mie no non farlo non farlo non farlo amiamo quello che abbiamo certo amiamolo rispettiamolo abbiamo la consapevolezza ma rendiamoci conto che in realtà ci è stato donato in prestito e noi dobbiamo cercare di abbellire quello che ci è stato dato è una casa che ami bene amala amala profondamente e ricordati che la tua casa in realtà è dell'universo in realtà è di dio e noi siamo i custodi è bello no ti dà tanta forza ti dà tanta consapevolezza ti dà tanta responsabilità ma soprattutto ti crea quel millimetro di distacco che ti permette di metterti al riparo da una svalutazione da un abbandono o anche da una perdita e dobbiamo ragionare in questo modo l'anno 2023 si sta avvicinando è un anno molto forte per guerire i veri per templare i veri molte persone si risveglieranno si stanno già risvegliando ma molto di più quello che ti dico vai verso il sapere vai verso la conoscenza vai verso tutte quelle cose che riempiono il tuo cuore ma soprattutto che risvegliono attraverso il tuo cuore le tue cellule il tuo nucleo che a sua volta dialoga con l'universo dobbiamo dialogare con l'universo in realtà niente di ciò che abbiamo ci appartiene davvero quello che mi appartiene è questo tempio questo corpo che mi ha dato in prestito che è meraviglioso e lo amo tantissimo e lo devo ringraziare ringrazio le mie mani ringrazio la mia voce ringrazio il mio sguardo ringrazio i miei occhi e ringrazio te che mi stai osservando buona giornata e buon primo dicembre viva la follia sempre ciao